Ok raga, scusate che ho interrotto il video, però purtroppo per problemi ho dovuto interrompere. Questa è la seconda parte di questo video e buona visione! Ok, bella raga, qui c'è sempre Salvo Gamer, qua c'è un altro bambino. Ok, stanno per partire i giganti raga, non ve l'ho mai fatta questa ripresa. Ciao, qua c'è un altro ragazzo. Ahia, scusate sempre per la seconda parte, però vabbè, tranquilli, questa volta non vi farò aspettare molto. Ora partono, forza parte, ahia, forse partono i giganti. Ma dove stai andando, i giganti suonano di là. Eh, appunto. La smetto, faccio vedere, no? Non la smetto. Sì, ti fai giù, tu, non lo so. Ahia, ma come te, chissio? Come te, chissio? Voglio respirare, tu, quei giù d'espaio. Basta. Eh, che fai? Ecco, il maschio e la femmina. Bravo. Uno maschio, una femmina. Dai, forse partono raga. Forse. Ok raga, non vi vorrei far aspettare, però mi avevano detto che partivo, no? E io, vabbè, stop raga. Bene raga, adesso sono sicuro che parto, no? Sì, ok, adesso parto. Adesso partono, ma meno male. Meno male. Da tre ore tipo che aspettiamo. Da voi saranno passati tipo un secondo. Però da noi qua è da tipo tre ore che aspettiamo. Tre ore su due minuti? Eh, sì, tre ore e cinque. Ok, partono sicuro, stanno mettendo i tamburi. Ok, mettete un link. Aiuto. Mettete un link. Attenzione. Ok, perfetto. Quals'è il scadamento? Sì, al genio gigante. Perfetto raga, attenzione. Buon divertimento ragazzi. Buon divertimento raga. Buon divertimento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.